Buonasera professor Barbero, allora questa sera cominciamo da questa immagine molto bella, è la pagina di un manoscritto medievale, una miniatura in cui si vede a sinistra la nascita di Gesù, poi tra l'altro qui a destra si intende quello che era il pentagramma dell'epoca con delle note un po' approssimative, ma su queste già si incidevano un po' dei temi musicali. Ecco, ma tornando all'immagine della nascita di Gesù, ed è questo l'argomento di stasera, è quello il momento in cui si cominciano a contare gli anni. Si cominciano a contare gli anni dalla nascita di Gesù, dal 25 dicembre. E come mai da allora? Come è nata questa cosa? In realtà appunto non è nata allora, ci è voluto molto tempo perché qualcuno avesse l'idea di contare gli anni dalla nascita di Cristo. E prima si contavano dalla fondazione di Roma, oppure dalla creazione del mondo in base a un calcolo fatto sulla Bibbia, e pochi sanno appunto che c'è stato un uomo che a un certo punto ha avuto l'idea di contarli dalla nascita di Cristo. E chi era questo personaggio? Era un monaco nato nell'impero romano d'Oriente, dalle parti del Mar Nero, nella Romania di oggi diciamo, che però viveva a Roma all'inizio del VI secolo, è l'epoca in cui l'Italia era governata da Teodorico, grande re dei Goti, e la cultura antica era ancora assolutamente viva a quell'epoca. Il VI secolo vuol dire 500 anni dopo la morte di Cristo. E come faceva a sapere il giorno del 25 dicembre in cui era nato? Il punto è che nessuno lo sapeva non tanto il giorno, anche se lì l'hanno collegato poi col solstizio d'inverno, la morte e rinascita del sole, ma soprattutto l'anno. Nessuno contava gli anni dalla nascita di Cristo perché non sapevano in che anno fosse nato. E la prima cosa che ha fatto Dionigi il Piccolo, che era un dotto, sapeva di greco e di latino, è stato di prendere la Bibbia e i libri di storia e calcolare in che anno era nato Cristo. E ha calcolato che era nato nel 753 dalla Fondazione di Roma. E il calcolo era giusto? Quasi. In realtà deve aver sbagliato di 4 o 5 anni perché quando Gesù è nato si è stata la strage degli innocenti, ordinata da Erode. Ora Erode sembra che sia morto nel 4 avanti Cristo. E quindi non poteva. C'è un piccolo errore, ma insomma per i mezzi che aveva a disposizione nelle biblioteche dell'epoca ha fatto un gran lavoro e poi soprattutto ha avuto l'idea di contare gli anni a partire da quel momento. Ed era un'idea che a noi sembra ovvia, ma era così nuova che ci sono voluti secoli prima che tutto il mondo cristiano la adottasse. Ma tra l'anno meno uno avanti Cristo e l'anno uno dopo Cristo c'è uno zero? Molti credono che ci sia uno zero. No, non c'è l'anno zero. Anche perché nell'antichità non conoscevano lo zero. Non avevano proprio il concetto. Lo zero è stato inventato in India e in Europa l'hanno introdotto gli arabi, ma molti secoli dopo. Quindi Gesù è nato il 25 dicembre dell'uno avanti Cristo. Ma c'è anche un'altra cosa curiosa, che poi noi in seguito abbiamo, come dire, razionalizzato un po' e cominciamo l'anno il primo gennaio. Ma nel Medioevo erano più coerenti. Dicevano se si comincia dal 25 dicembre, noi cambiamo l'anno il 26 dicembre. E altri dicevano in realtà Gesù è venuto sulla terra non con la nascita, ma già con l'incarnazione. E quindi cominciavano l'anno il 25 marzo. Siete, comunque a quell'epoca la gente viveva, neanche sapeva bene in che anno. Era però importante per i burocrati, ma soprattutto per gli storici, perché senza anni di date, di avventi, di nascite, di battaglie, il vostro mestiere sarebbe complicato. Infatti, ma in realtà poi sono i burocrati quelli che per prima hanno deciso che era troppo comodo avere un sistema unico e quindi l'hanno introdotta. Grazie, professor Barbero.